ma stai facendo il video bravo vedo la gente morta francamente me ne infischio sono il lupo cattivo il mio nome è bond james bond stai parlando con me io sto abbiamo un problema ti farò un'offerta che non faccia rifiutare e presto avrò 40 anni non sai che ora a 40 anni hai un piccolo cieco dopo tutto domani è un altro giorno eeeh sai che c'è prima volta di prima 70 anni francamente me ne infischio che la forza sia con te elementare Watson gli farò un'offerta che non potrà rifiutare sono io tuo padre sono il lupo cattivo al mio via scatenate l'inferno scatenate l'inferno al mio via al mio via scatenate l'inferno però devi gridare il mio tessoro al mio via scatenate l'inferno così sei cattivo tu si mangia bene farò l'inferno